Ciao artisti e benvenuti su Davideogiochi Channel, arte a 360 gradi. A prescindere dal fatto che abbiate scoperto il mio canale per caso o che qualcuno ve lo abbia consigliato, in questo video molto breve che farò da trailer voglio spiegarvi un po' a grandi linee chi sono e che cosa faccio qui su YouTube. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo a culturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Io sono Davide ma da oggi il mio nickname sarà Davideogiochi, potete chiamarmi nell'uno o nell'altro modo, fate voi. L'arte è sempre stato uno dei miei argomenti preferiti, quindi ho deciso di aprire un canale totalmente dedicato ad esso, in tutte le sue sfaccettature, pittura, scultura, letteratura, architettura, musica, danza, teatro, fotografia, cinema, fumetto e anche videogioco e voglio approfondirla sotto tutti i suoi punti di vista, quindi preparatevi ad assistere a tutorial sugli strumenti sulle tecniche, recensione di opere d'arte di vario genere, biografia dei più grandi artisti del passato, disegni e sculture dei personaggi della cultura pop e chi più ne ha più ne metta. Ok, direi di aver fatto una premessa piuttosto sintetica ma profonda no? Io ho deciso di chiamare i miei iscritti artisti, quindi se vi ho incuriosito e se avete intenzione di seguirmi, consideratevi pure artisti. Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione, condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'handcard. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davideogiochi Channel, arte a 360 gradi. Ciao!